XD Questa settimana Disney XD e Marvel presentano I più potenti eroi della Terra stanno per tornare Il mondo ha bisogno di noi come una squadra di supereroi Tutte le serie alle 20 e 20 troverai un episodio di Avengers Per rivivere le avventure dei leggendari supereroi dell'universo Marvel Attacchiamo! E dal 25 gennaio non perdere i nuovi incredibili episodi Avengers ad un'altra Preparati a una grande missione Insieme a Iron Man, Hulk, Capitano America, Thor e tutti gli altri fantastici supereroi Marvel Avengers I più potenti eroi della Terra Questa settimana alle 20 e 20 solo a Disney XD